E su questa vicenda è durissimo il commento della CGL, chi produce non può non sapere. Il caporolato tra i campi della marca non è una novità. A denunciare la situazione alla CGL trevigiana, che punta il dito non solo sulla produzione di radicchio o altre derrate, ma soprattutto tra i filari, in particolare di prosecco. Caporolato stagionale con addirittura pullman dall'estero di lavoratori senza nessuna regola, chiamati stagionalmente per la raccolta della frutta, per la vendemmia, ma anche per la potatura di ettari ed ettare di vigne in quel nuovo boom sceso dalle colline per invadere la pianura trevigiana. Manodopera a poco prezzo senza alcuna tutela e con poche pretese, in gran parte dall'est Europa, ma anche tra i disperati dell'Africa che magari hanno ottenuto lo status di profughi, perdendo per questo ogni tutela sociale. Siamo di fronte in realtà alla politica della doppia morale, non vogliamo clandestini, non vogliamo lavoratori immigrati qui, però poi per lavorare in situazioni di sfruttamento vero e proprio li facciamo lavorare nei nostri campi. Ecco, la dimostrazione è che non regge più questa situazione, l'illegalità chiama illegalità e condizione a tutti, tutti i lavoratori poi. Perché alla fine diventa una guerra tra poveri al ribasso, dove se va bene al lavoratore italiano arriva il voucher, ma non si contano le ore, mentre lo straniero per IMS e INAIL proprio non esiste. Una concorrenza che rischia di innescare rivolte sociali, con trevigiani e veneti senza lavoro, che si vedono soffiare le poche opportunità da una concorrenza sleale, alimentata da un mercato senza scrupoli. Chi in qualche modo sta fuori le regole, manda fuori il mercato quelli che invece le rispettano. E chiaramente questo vuol dire un peggioramento delle condizioni di tutti, imprese e lavoratori stessi. Questo è inaccettabile. Ecco, chi dovrebbe vigilare? Su questo dovremmo vigilare tutti, perché c'è una responsabilità di tutti, compreso il committente, quindi l'impresa che ha fatto lavorare la cooperativa anche, ma in qualche modo tutti i soggetti proposti, sindacato, quindi ci mettiamo anche noi in mezzo, ma anche istituzioni e penso ad esempio all'ispettorato del lavoro su questo. Ad esempio un ragionamento su dare maggiori risorse per il controllo degli ispettori del lavoro nel territorio vasto come il nostro Veneto, probabilmente è un ragionamento che dovremmo fare al più presto.